Un'azione dimostrativa e concreta con l'obiettivo di riattivare un servizio stabile di traghettamento fluviale. L'iniziativa dal 12 al 15 ottobre è organizzata dall'autorità di vaccino con il supporto del Politecnico di Milano. Il progetto transponde, ha coinvolto 360 studenti, ma sono arrivate 800 richieste da tutto il nord Italia. Questa mattina dalle colonie padane sono partiti una settantina di ragazzi del Liceo Novello di Codogno e del Vergilio di Mantova diretti a Piacenza attraverso la ciclovia Vento all'interno della riserva di biosfera po' grande. I ragazzi hanno attraversato il fiume a bordo della motonave Mattei, tra Castelnuovo, Bocca d'Adde e San Nazaro, dove ad attenderli c'erano gli organizzatori che sottolineano l'intento didattico nei confronti delle giovani generazioni. Il segretario generale dell'autorità di vaccino Meuccio Berselli. Il fiume va ricucito e il fiume è una interconnessione importante, allora noi stiamo tentando di educare i ragazzi alla cultura del paesaggio, alla mobilità lenta, ma soprattutto al fatto che esistono due sponde. L'idea è di trovare delle barche caronte che possono portare le anime da una parte all'altra e noi stiamo pensando in tutto il fiume di garantire questo servizio e questo progetto è un progetto pilota, sperimentale. C'è un enorme entusiasmo da parte dei ragazzi e delle scuole. Questo può consentire di avere una classe dirigente in futuro che potrà conservarlo meglio di quello che abbiamo fatto noi. Occorre un sostegno finanziario che verrà chiesto al governo il professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano. Al governo chiederemo di finanziare in modo fisso, continuo, dieci di questi attraversamenti a partire dalle aree del Mab Pogrande. E questo è importante perché tu devi dare continuità a questa cosa. Oggi noi facciamo un evento ma dopo domani si spengono il riflettore e tutto finisce. Noi non vogliamo questa cosa qua. Cioè o si ha una visione di pianificazione fluviale. Allora abbiamo un progetto per il Po, ce l'abbiamo, abbiamo un progetto per i fiumi italiani, ce l'abbiamo un progetto per l'Adda, ce l'abbiamo un progetto per il Tevere. Ecco questo manca e questo così non può funzionare. Alla fine ci areniamo.